Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del Tg6 che apriamo con la cronaca perché un 41enne pescarese è stato arrestato questa mattina dagli agenti della polizia stradale di Pescara con l'accusa di omicidio stradale. La notte scorsa l'uomo a bordo della sua auto ha investito ed ucciso un romeno di 47 anni che si trovava in bicicletta lungo la circonvallazione che collega Francavilla al mare a Montesilvano. È stato un automobilista di passaggio a dare l'allarme vedendo a terra il cadavere del poveretto. L'investitore era fuggito, è stato poi rintracciato e come detto arrestato. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. È stato rinvenuto cadavere la notte scorsa intorno alle 2 dai sanitari del 118 dopo essere stato investito da un pirata della strada in stato di ebrezza che poi ha proseguito la sua corsa lungo la circonvallazione pescarese. Prima della galleria San Giovanni nella zona di Pescara Colli. La vittima è un cittadino romeno di 47 anni, Ion Vlad. Un uomo in sella alla sua bicicletta è stato preso in pieno dall'auto che procedeva in direzione sud-nord, probabilmente a velocità spedita. È stato un automobilista di passaggio a vedere il corpo a terra e allertare gli agenti della polizia stradale, coordinati dal vicequestore aggiunto Silvia Conti, che stanno ora ricostruendo l'accaduto. La salma del 47enne è stata invece trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito l'incarico per l'autopsia. Subito dopo, grazie anche ad alcune testimonianze, è stato rintracciato l'investitore che dopo l'impatto mortale non si era fermato, fuggendo via. Si tratta di un italiano di 41 anni nato a Napoli e residente a Pescara, per cui si è proceduto all'arresto con l'accusa di omicidio stradale in base alla nuova normativa. L'uomo, che avrebbe anche cercato di sbarazzarsi dell'auto e sottoposto per legge agli accertamenti sanitari, è risultato positivo all'alcol test. Il PM che coordina le indagini è Gennaro Varone. Ancora cronaca, in un incidente agricolo avvenuto questa mattina a Torino di Sangro, ha perso la vita Rocco De Grandis, 72enne del posto. Il pensionato, per anni conducente di autobus, stava percorrendo un terreno accidentato ai bordi della strada statale 16 Adriatica, al chilometro 494, quando si è ribattato il trattore, facendolo finire sotto i cingoli. Un'automobilista di passaggio, poco prima delle 9, ha dato l'allarme ai soccorritori del 118. Non hanno potuto far altro, però, che constatarne il decesso sul posto. Sono giunti anche i carabinieri per i rilievi di legge, tra i primi ad accorrere anche il sindaco di Torino di Sangro, Silvana Priori, che si è stretta attorno al dolore della famiglia, molto nota in paese. La vittima lascia la moglie, due figli ed una nipotina. Ancora cronaca, agguato questa mattina a Silvia, al direttore della motorizzazione civile di Chieti, Nino Mario Presutti, che è rimasto fortunatamente illeso in azione un giovane a bordo di uno scooter che si è affiancato all'auto e ha fatto esplodere un colpo di pistola. Il proiettile, fortunatamente, si è incastrato nella carrozzeria della vettura. Le indagini sul misterioso ed inquietiante episodio sono affidate ai carabinieri. Agguato questa mattina dopo le 7.30 in via Piave a Silvia Marina, a due passi dalla SS16, dove un giovane a bordo di uno scooter si è affiancato all'auto del direttore della motorizzazione provinciale di Chieti, Nino Mario Presutti, esplodendo un colpo di pistola verso il lato del guidatore. Fortunatamente il proiettile si è conficcato contro la carrozzeria della vettura, mandando in frantumi il vetro. Il malvivente è poi scappato in direzione della strada nazionale adriatica, facendo perdere le sue tracce. Presutti, fortunatamente illeso ma in stato di shock, ha immediatamente chiamato i carabinieri, che sono arrivati dopo qualche istante dalla vicina caserma. Nino Mario Presutti, 57 anni, vive a Silvi, ma è originario dell'Aquilano. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giulianova e della locale stazione. Gli inquirenti hanno già ascoltato Presutti e nelle prossime ore ascolteranno eventuali testimoni. Il momento potrebbe riguardare questioni di lavoro o personali. Il riservo è massimo. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo. Continuiamo con questa corposa pagina di cronaca. Ci spostiamo all'Aquila, dove gli agenti della squadra mobile hanno denunciato una donna che affittava un appartamento in piazza d'armi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. La Polizia di Stato ha chiuso all'Aquila una casa di prostituzione denunciando la proprietaria. Dopo una lunga e laboriosa attività investigativa, gli agenti della squadra mobile hanno denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione una donna aquilana, B.A., proprietaria di un appartamento ubicato all'Aquila in zona piazza d'armi. Secondo quanto accertato dalle indagini dei poliziotti, coordinati dal dirigente Maurilio Grasso, la donna favoriva e sfruttava la prostituzione di numerose persone di nazionalità straniera, sia donne che transessuali, di nazionalità brasiliana, colombiana e venetuelana, che si avvicendavano all'interno del predetto appartamento concesso in locazione. Dall'attività investigativa è emerso infatti che l'abitazione, ora sottoposta al sequestro, su disposizione del giudice delle indagini preliminari, Guendalina Buccella, come da richiesta del pubblico ministero Roberta Tavoglio, veniva ceduta sistematicamente in affitto per brevi periodi, in maniera regolare, a giovani donne e trans di nazionalità straniera. Nel corso delle indagini, cominciate nel 2015, sono stati effettuati numerosi appostamenti, sono state raccolte testimonianze di clienti, cittadini e prostitute, acquisite immagini e annunci su internet, su siti del settore. Dalle ricostruzioni investigative si è potuto accertare che l'attività criminosa è stata svolta all'Aquila dal 2014 a oggi e che in questo lasso di tempo, ma anche negli otto anni precedenti, la proprietaria cedeva l'appartamento a giornate o settimanalmente e chiedeva, a titolo di canone, somme in contanti variabili da 250 euro fino a 720 euro mensili, tutto compreso, luce, acqua e gas. Tutto questo senza sottoscrizione del concontratto di specie o talora, con contratto riportante a un canone molto inferiore rispetto a quello effettivamente percepito. I possessori protempore dell'immobile esercitavano stabilmente e continuativamente la prostituzione all'interno, dopo aver adescato i clienti online con prestazioni sessuali da 50 euro in su. Ancora cronaca, aveva oltre 4 mila immagini e un centinaio di video che ritraevano minori abusati o inatteggiamenti pornografici, alcuni con un'età inferiore ai tre anni. Con l'accusa di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico è finito in manette un 45enne scapolo impiegato in lavori saltuari. L'arresto è stato eseguito ieri pomeriggio sul Tardi dagli agenti della Polizia Postale del Comando di Pescara agli ordini del vicequestore aggiunto Elisabetta Narciso. L'uomo è finito in un'inchiesta che era partita qualche mese fa. L'indagine ha preso avvio da una prima attività svolta dal servizio della Polizia Postale delle comunicazioni ed è frutto anche della cooperazione con organizzazioni internazionali impegnate nella lotta alla pedopornografia online. Le indagini non sono tra l'altro ancora concluse perché sono al vaglio degli investigatori gli elementi raccolti per arrivare all'eventuale individuazione di altre persone coinvolte in analoghi crimini. Cambiamo pagina. La Polizia Penitenziaria celebra la festa annuale e conferma anche quest'anno, nel 196esimo anno dalla nascita, il calo delle criticità all'interno della casa circondaliare di Castrogno, uno dei carceri più sovraffollati del regione. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Un'occasione quella di oggi anche per fare il punto sulle criticità che da sempre sono presenti al carcere di Castrogno. Sì, va detto però che da alcuni anni il sovraffollamento è diminuito, salvo nell'alta sicurezza. Va detto altresì che da alcuni anni il regime aperto che adesso è stato ribattezzato custodia aperta e custodia chiusa ha attenuato di molto quelle che erano le problematiche all'interno delle sezioni detentive. I detenuti sono aperti in media sicurezza dalle 8.30 al mattino alle 17.30 di sera, salvo che non ci siano problemi di sicurezza perché nel qual caso vengono immediatamente chiusi e riaperti quando ci sono le condizioni di sicurezza per poter procedere in buona sostanza. Di questo se ne è giovato tutto l'ambiente. È la popolazione detenuta perché prende meno rapporti, meno denunce, ci sono meno fatti critici. È la stessa polizia penitenziaria perché adesso incentra la sua operatività sull'osservazione delle persone detenute, soprattutto, piuttosto che sulla vigilanza statica che c'era fino a qualche anno fa. Per quanto riguarda invece i detenuti psichiatrici, le criticità rimangono, come si potrebbero risolvere? Si dovrebbero risolvere attraverso una diversa modalità di gestione penitenziaria, nel senso che se sono psichiatrici perché hanno grossi problemi sotto l'aspetto psicofisico, in carcere non dovrebbero esservi perché il carcere è pur sempre un luogo di detenzione, di privazione della libertà e anche con tutti gli sforzi possibili e immaginari, logicamente un ambiente diverso da quello detentivo sarebbe migliore per la loro tutela. Il lavoro svolto da parte della Polizia Penitenziaria, cosa oggi vuole sottolineare di più? La benegazione e l'impegno che loro estendono, non solo sotto l'aspetto dell'ordine, della disciplina, della sicurezza, ai fini proprio di assicurare anche esigenze di difesa sociale contro il crimine, ma principalmente l'alporto collaborativo che loro offrono ai fini del recupero sociale e culturale dei detenuti. E da Teramo ci spostiamo a Chieti, tante le testimonianze dei residenti del quartiere di Madonna delle Piane, a Chietiscalo che ormai da troppo tempo lamentano aria irrespirabile nel quartiere, a raccogliere la denuncia il Partito Democratico che ottiene due centraline di monitoraggio da parte dell'Arta. Odore acre insopportabile al punto di causare bruciori alla gola e alle narici. E questa ormai è l'abitudine alla quale sono sottoposti i residenti di Madonna delle Piane a Chietiscalo, che chiedono di conoscere la causa di un odore che due volte al giorno finisce dentro le proprie case, causando difficoltà respiratorie e disagi. Ti sfiato, quando la passi mi ha chiudito la bocca, non tutti i giorni, però dalla mattina alla pomeriggio guarda nello. Io penso che l'inquinamento ambientale deriva da una cattiva gestione amministrativa, da una cattiva gestione della politica. Si parla di plastica, di che si parla? Di plastica si parla quando c'è l'odore un po' più vasto, viene dalla zona della parte del mare. Ma in questa zona qui invece si parla proprio di qualcosa chimico, qualcosa che penso che sia qualche additivo. A raccogliere la denuncia il Partito Democratico, che dopo un'interrogazione comunale, chiede un monitoraggio specifico dell'area per conoscere la composizione di quell'odore e soprattutto la pericolosità. Questo è il primo risultato positivo che abbiamo ottenuto con questa interrogazione. Avere maggiori dati e il monitoraggio verrà fatto da una centralina sicuramente davanti alla scuola di Madonna delle Piane. Questo però non basta perché noi vogliamo informare i cittadini sui risultati di questi dati e con i dati alla mano vogliamo sapere anche da dove vengono quei cattivi odori. Deve essere fatto un monitoraggio di tutte le industrie che operano nella zona, tutte quelle industrie che hanno richiesto le autorizzazioni per le emissioni nell'area e vedere se quelle emissioni sono regolari per leggi in modo che gli imprenditori possano lavorare serenamente senza preoccupazioni ma soprattutto che le famiglie residenti possano vivere in quest'area senza preoccupazioni perché più passa il tempo e più c'è disinformazione o non informazione, più giustamente le persone sono preoccupate. Noi saremo loro vicini per informarle quotidianamente su quello che riusciremo a scoprire. E noi torniamo all'Aquila dove è stato inaugurato il nuovo centro di raccolta ingombranti nel quale i cittadini potranno conferire ogni tipo di rifiuto. Voluto dall'amministrazione comunale per arginare i continui abbandoni di rifiuti servirà solo i cittadini residenti nel comune dell'Aquila qualora abbiano la necessità di smaltire i rifiuti di dimensioni maggiori. È stato inaugurato il centro raccolta di rifiuti del comune dell'Aquila posizionato nella zona industriale di Bazzano e gestito dall'SM. Possono accedere al servizio anche le utenze non domestiche con apposita convenzione e con quantitativi specifici rifiuto per rifiuto. Gli Aquilanni potranno portare nel centro raccolta ingombranti, RAE, imballaggi di carta, cartone, vetro, plastica, legno, alluminio, ferro, sfaci e potature, batterie, accumulatore e quant'altro, il tutto contenuto in un elenco consultabile sul sito. L'apertura al pubblico è da lunedì 13 giugno dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì. Per il primo periodo di tre mesi si accederà al centro raccolta solo tramite prenotazione al numero verde ASM 800 20 88 20. Uno dei problemi dell'Aquila è proprio l'abbandono dei rifiuti, l'abbiamo evidenziato ultimamente e soprattutto credo anche a cagione della ricostruzione ci sono diversi casi di abbandono di rifiuto spesso ingombranti. Si spera che adesso il cittadino avendo la possibilità di venire a conferire direttamente qui invece di andare a abbandonare il rifiuto lo venga a conferire correttamente ai sensi di legge. Non solo va a sopperire i problemi ma speriamo che vada ad educare i cittadini soprattutto quei cittadini che almeno in questo periodo stanno tempestando la nostra città di rifiuti e soprattutto di rifiuti ingombranti ma non solo cittadini privati ma anche ditte e quant'altro. Adesso questo centro di raccolta servirà per dare la possibilità ai cittadini di poter portare direttamente qui il materiale ovviamente non tutti insieme, ci saranno delle regole, ci sarà un numero verde che sarà contattabile prenotando appunto lo spazio verrà conferito il materiale. L'amministrazione in questo senso sta facendo anche un altro tipo di intervento che è l'intervento attraverso l'ordinanza del sindaco di poter reprimere il fenomeno dell'abbandono di rifiuti quindi ci saranno delle multe salate per coloro che non approfitteranno appunto di questa opportunità ma riterranno ancora di continuare a lasciare rifiuti ovunque appunto ci saranno delle multe e ci sarà un preannuncio anche delle zone e delle aree video sorvegliate. 12 milioni di euro messi a disposizione dal Masterplan per finanziare la riqualificazione delle aree di risulta della vecchia stazione a Pescara. L'amministrazione comunale apre una fase di studio dove invita tutte le forze pubbliche, politiche, sociali e cittadine a presentare proposte per trasformare il grande vuoto urbano. Col mare il grande vuoto urbano rappresentato dagli 11 ettari dell'area di risulta di Pescara con questa prerogativa il sindaco Alessandrini apre ufficialmente le candidature per i progetti più adatti a riqualificare un'area considerata snodo regionale di flussi turistici e logistici. L'area di risulta è una eredità generazionale per Pescara e da oltre 30 anni questo vuoto urbano, 11 ettari nel cuore della nostra città, è in attesa di una sistemazione. Ci sono delle funzioni che lì si sono sviluppate e che restano irrinunciabili. I parcheggi, lo snodo per la viabilità, lì transitano le autoline regionali e extra regionali e non solo. Tutto questo dovrà rimanere ma in una chiaramente veste futura, contemporanea, adeguata con un numero di parcheggi pari all'esistente ma con modulo interrato per garantire la prospettiva che è della sezione Valmar e moduli a silos avendo come priorità quello di realizzarli secondo le cosiddette modalità bosco verticale. Ci vorrà poi il più grande parco pubblico possibile e il parco pubblico ha bisogno di essere sicuro. una modesta quota di edilizia commerciale per consentire il sorgere lì, certamente non di supermercati ma di bar, ristoranti, atelier, gallerie, per fare in modo che la gente vada nel parco e lo riempia di vita. 12 milioni di euro quelli messi a disposizione nel masterplan per finanziare l'opera che secondo previsioni non arriverà prima del 2027. Al momento è espunto il plesso culturale perché non vi sono le risorse per realizzarlo meno un'ottica modulare si potrà pensare di farlo nel futuro prossimo. Il nostro obiettivo è quello di rendere manifesto il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni di avviare un percorso di ascolto con la cittadinanza e i progetti, suggerimenti, le idee che dovessero venire fuori finanziariamente compatibili saranno elaborate da una commissione di disagi che provvederà a fornire le indicazioni venute fuori dal dibattito all'amministrazione affinché si possa decidere in piena consapevolezza partecipativa. Dopo le polemiche dei dipendenti che presto verranno sostituiti dalle macchine l'amministratore delegato di Strada dei Parchi assicura che l'automazione ci sarà ma che saranno salvaguardati i posti di lavoro. Daniele Rosone Polemiche sterili, l'etichetta così l'amministratore delegato di Strada dei Parchi Cesare Ramadori sono quelle dei casellanti che nonostante lo so però si sono visti entrare in funzione il casell automatico nei giorni scorsi. Il processo di automazione va avanti, la razionalizzazione ci sarà è accaduto anche in altre autostrade dichiara l'amministratore delegato. è una polemica che diciamo in questo momento sterile perché noi è vero che stiamo razionalizzando tutti gli svincoli cosa che hanno già fatto tutte le altre autostrade d'Italia e siamo gli ultimi a fare questa cosa e per noi è estremamente necessaria perché visti i volumi di traffico che ha l'autostrada i sistemi automatici sono sicuramente efficaci e è la soluzione del futuro. La figura dell'esattore a mio parere è una figura che tenderà a scomparire e andrà riqualificata. Il nostro obiettivo però specifica è potenziare il servizio viabilità per cui i dipendenti verranno reimpiegati lì e altrove. Nessuno vuole ovviamente far perdere i posti di lavoro dice. Tenga conto che noi dobbiamo potenziare il servizio viabilità che sono gli ausiliari della viabilità che sono quelli che danno più assistenza agli utenti in caso di necessità e la nostra intenzione è potenziare quel traffico. Abbiamo internalizzato una serie di attività spostando la gente dall'esazione su queste altre attività. Noi cerchiamo di mantenere il personale per quello che abbiamo oggi in forza. E sull'aumento dei pedaggi di cui si parla ormai ogni anno lui risponde così. Si aumenta il pedaggio perché noi facciamo investimenti. Aumenta tutti gli anni ma perché facciamo investimenti tutti gli anni. Io ho spiegato in varie occasioni, non ultimo il 31 dicembre, il 30 dicembre dell'anno scorso, come funziona l'incremento tariffario. È dato da una formula matematica dove c'è dentro per grossa parte gli investimenti che vengono realizzati. Ora parliamo di politica perché il sindaco di Penna Sant'Andrea, Severino Serrani, fa il punto del primo biennio di amministrazione comunale. Servizi, opere pubbliche, manutenzione e sicurezza del territorio. L'amministrazione di Penna Sant'Andrea, guidata dal sindaco Severino Serrani, traccia un bilancio delle principali attività e risultati amministrativi conseguiti a due anni dal suo insediamento. In questi due anni abbiamo lavorato duro e grazie alla collaborazione di tutti i componenti dell'amministrazione comunale siamo riusciti a raggiungere dei discreti risultati. L'obiettivo importante è stato l'avvio della raccolta differenziata con il sistema porta a porta. Penna Sant'Andrea ha anche consentito di abbassare la Tari, la tassa sui rifiuti. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo installato un impianto di videosorveglianza al parco giochi nelle piazze principali del paese e davanti alle scuole. Abbiamo riqualificato l'area ludica lungo il viale delle rimembranze ed effettuato importanti interventi di riqualificazione al parco giochi di Valvomano. A breve inaugureremo una nuova area ludica in frazione pilone, proprio alla porta della riserva naturale. È stata riqualificata la palestra e a breve partiranno i lavori per la riqualificazione dell'impianto sportivo di Viacesi grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di 515 mila euro. Importante è stato anche l'ingresso del nostro paese nel distretto turistico del Gran Sasso e nel percorso turistico religioso la Valle delle Abbazie perché Penna non ha soltanto la riserva ma anche importanti monumenti come per esempio il Borgo Storico di Capsano, tante chiese e l'intervento più importante è stato fatto sulla chiesa di Santa Giusta chiusa da 50 anni che affonda le sue radici addirittura nell'Alto Medioevo. Finalmente quest'anno partiranno anche i lavori, tante famiglie, tanti avranno la rete in rigua proprio nella frazione Valvomano che è attesa, ripeto, da 30 anni. Il Comune inoltre ha emanato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di personale da impiegare i lavori accessori retribuiti con buoni lavoro per le attività di pulizia e manutenzione delle strade, del patrimonio culturale, del verde pubblico e i lavori di emergenza. Cambiamo ancora pagina perché secondo il rapporto di Alma Laurea l'Università dell'Aquila si pone ai vertici nazionali per chi cerca lavoro dopo il conseguimento della laurea. Il 66% dei laureati presso l'Ateneo Federiciano ad un anno dal conseguimento del titolo sono già occupati contro una media abruzzese del 56%. Il 58% degli occupati contro una media regionale del 52% può contare sul lavoro stabile, ossia con contratto a tempo indeterminato o con un'attività autonoma, effettiva con un guadagno medio di 1.145 euro al mese, anche in questo caso superiore alla media abruzzese che è di 1.061 euro. Sono i dati del diciottesimo rapporto Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani che nel divario tra nord e sud, di cui anche il sistema universitario risente, pone l'Ateneo Aquilano in testa a quelli del centro-sud quanto a possibilità di trovare lavoro nei primi tre anni. Per i neolaureati all'Università dell'Aquila c'è l'86,1% di possibilità di trovare lavoro nei primi tre anni, ha spiegato la Inverardi, affiancata dal prorettore vicario Carlo Masciocchi, dalla prorettrice delegata agli affari internazionali Anna Tozzi e dalla referente di Ateneo per l'orientamento, il tutorato e il placement, Giulio Antonini. Per quelli dell'Università Chieti-Pescara le possibilità sono dell'81% e per quelli di Teramo il 79,5%. Ma l'Ateneo Aquilano fa meglio anche di altre università del centro Italia come Siena, Perugia, Pisa, Roma 3 e Roma La Sapienza. Noi eravamo consapevoli del nostro dato, in realtà non eravamo tanto consapevoli dei dati degli altri e di quanto fosse un risultato buono quello dei nostri laureati. È un elemento positivo che ci dà forza la determinazione di continuare a fare sempre meglio per la preparazione dei nostri studenti. Siamo alla pagina dello sport, il calcio in apertura per parlare del Pescara che nel pomeriggio partirà alla volta di Trapani dove domani sera alle 20.30 giocherà la gara di ritorno della finalissima promozione play-off con la formazione siciliana. Ricordiamo che all'andata i biancazzurri si imposero per 2-0. È stato designato l'arbitro di questa gara che si giocherà allo stadio provinciale. Si tratta del signor Maresca di Napoli. Intanto questa mattina c'è stata la conferenza stampa del tecnico biancazzurro. Massimo Oddo, ascoltiamo. È una partita di calcio importante perché ci giochiamo, entrambe le squadre, ci giochiamo la Serie A e noi faremo quello che siamo abituati a fare. Proveremo ad andare a vincere. La gestione la faccio tramite l'attacco. Quello sappiamo fare e noi siamo nati per quello. Poi ci sono dei momenti della partita in cui ovviamente dovrai soffrire, ma questo è normale, fa parte del calcio. Però l'idea è quella. Poi davanti c'è sempre una squadra che se farà valere la sua forza magari a volte ci schiaccerà o ci metterà dietro. Non ci consentirà di fare quello che vorremmo fare. Ma questo fa parte del calcio. Però l'idea, la nostra idea è quella di andare a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, senza fare calcoli. Mi aspetto un ambiente bello, un ambiente in una città che tra l'altro porta la mia origine. Ho letto tante cose sui giornali e sinceramente per me è anche un'offesa perché essendo originario di lì conosco, anche se non benissimo perché non ci ho vissuto, ma conosco il pubblico, la gente di Trapani. E' un posto civilissimo, civilissimo non come si fa passare, anzi sarà una bella partita, una partita a cui i tifosi del Trapani ci tengono come ci tengono i tifosi del Pescara, ma nulla di più. Ma è così importante sapere cosa ci si dice a fine partita o vi interessa di più andare in Serie A? E allora pensiamo alla Serie A. Finita qua, basta. Non fanno la notizia, sai quale è la notizia? Le Scara in Serie A, questa è la notizia. La pressione su entrambe le squadre, l'una che deve rimontare e l'altra che non deve farsi rimontare. Quindi la pressione penso che sia la stessa in una partita che vale la Serie A. Qualche fallo di troppo ci sta, un po' di nervosismo in più, quindi alla fine questo tipo di partite le vincono anche le squadre che sono più tranquille da tutto questo punto di vista. perché inevitabilmente se tu sei più tranquillo, sei più lucido e non commetti errori che possono costare caro. La mia più grande scommessa è portare il Pescara in Serie A, quella è la mia grande scommessa. Poi quello che succederà vedremo. E in casa siciliana abbiamo ascoltato il direttore sportivo Faggiano. A me sembra tutto un po' un casotto, però non c'è nulla e possono stare tranquilli tutti. Mi sembra un po' montato ad arte questa situazione perché io rappresento una società importante e fatta da persone serie che le conoscono in tutto il mondo. E rappresento una città che a dirsi voglia si comporta sempre alla grande, ha gli spalti senza barriere. Grazie a Dio le multe non arrivano mai, si comportano sempre correttamente, sia dentro che fuori dallo stadio. Io ho degli amici che verranno da Pescara, c'è degli amici miei che andranno in tribuna con quelli del Pescara o in curva, non è nessun problema, non è successo niente, non succederà mai niente e non possiamo dare adito a 3-4 persone che scrivono su Facebook un nervosismo che c'è. Però secondo me stiamo esagerando un po' tutti. Ci può stare che io possa dire qualcosa dopo la partita, durante la partita, ma poi dopo finisce là. Il Presidente Sebastiani lo sa che qua e io personalmente con lui e con tutta la città di Pescara mi sono comportato bene, nonostante abbia perso e potevo dire qualsiasi cosa perché quando uno perde non gli funzionano tutti i sensi o il cervello, però invece così non è stato e mi sembra molto strano queste dichiarazioni. Non so da dove sono venute, da dove provengono, però dico ci sono rimasto male perché qua a Trapani come anche i tifosi del Pescara hanno dimostrato che andando via dopo la partita i nostri tifosi con tutto il rammarico della sconfitta erano più che tranquilli e sono stati trattati benissimo dai tifosi dei pescaresi. Mi sembra di sognare, voglio dire, sento che potremmo contaminare il cibo o disturbarli nell'albergo ma mi sembra di sognare a me, non ci posso chiedere, questo non fa parte del calcio del Trapani del calcio che facciamo a Trapani e che io rappresento in questa grande città che ce la invidiamo tutti una volta che vengono qui. Dai play-off parliamo, passiamo. Il caso di dire ai play-out perché c'è un'impresa disperata che attende questa sera la Virtus Lanciano che alle 20.30 sarà in campo alla Reiki di Salerno per la gara di ritorno dei play-out salvezza salvezza compromessa però dopo la gara di andata, dopo la batosta subita al Guido Biondi per 1-4 considerato il miglior piazzamento della squadra campana la Virtus per centrare l'obiettivo avrà la necessità di vincere con almeno 4 gol di scarto tra i frentani tornano a disposizione Di Francesco e Giandonato il primo sarà sicuramente in campo per comporre il tridente con Marilungo e Bonazzoli in avanti Giandonato potrebbe soffiare una maglia a Bacinovic o Vitale a centro campo in difesa si riparte da Aquilanti e Amenta al centro con Salviato e Di Matteo Terzini fuori causa ancora lo squalificato Ferrari e l'infortunato Vastola nella salernitana il tecnico Menichini dovrebbe confermare l'undici vittorioso a Lanciano con un solo dubbio a centro campo Moro potrebbe infatti sfilare la maglia all'ex Pestrin Nalini e Zito aggiranno sulle fasce Coda e Donnarumma saranno i terminali offensivi dirigerà l'incontro Fabrizio Pasqua di Tivoli 4 i bus riempiti dai tifosi frentani che nel tardo pomeriggio raggiungeranno Salerno questa sera puntata speciale di Virtustyle condotta da Alessio Gian Cristofaro a partire dalle 20.20 con cui seguiremo l'andamento della partita tra salernitana e Lanciano e chiudiamo con la palla canestro perché giunge all'atto finale la sfida playoff di serie B tra Montegranaro e Amatori Pescara dopo le due vittorie per parte questa sera si gioca la gara 5 alle 21.15 nel palazzetto dello sport marchigiano il quintetto pescarese sempre sotto nella serie è andato vicino alla vittoria in trasferta di gara 1 e poi ha sbancato di misura Montegranaro in gara 2 chi vincerà questa sera accederà alle Final Four in programma già in questo fine settimana a Montecatini dove saranno assegnati i tre posti disponibili per la promozione in serie A2 dunque in bocca al lupo anche all'Amatori Pescara noi siamo giunti al termine di questa prima edizione del TG6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo la seconda alle 19 buon proseguimento di giornata grazie a tutti